carissimi ragazzi siamo di nuovo qua un altro anno se ne è quasi andato manca poco per il 2020 dai inizi a questo 2020 ma non ci preoccupiamo perché tanto fra 300 anni arriveremo al 2320 e noi saremo ancora qua ricordatevi quello che vi dico perché questi vanno avanti con la tecnologia si cambieranno i pezzi si cambieranno il cuore il fegato il terreno quindi noi facciamo il servizio e ritorniamo andiamo sempre avanti quindi sembra avanti buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti carissimi amici conoscenti e parenti benvenuti alla sesta edizione di luci colori e riflessioni stiamo avvicinando grazie E' uno dei primi che si è trovato in questa strada E' uno spettacolo Mai sperdere la speranza Luci Grazie Grazie Stasera vogliamo trasformare tutto Anche il polche Gli spagnoli che stanno in Svizzera Ciao, buonasne Buon esplendosto Buon esplendosto Buon esplendosto Grazie a tutti. Quanto tempo che stai in Svizzera? 39 anni. 39 anni di emigrazione nella terra... In Chikorea! In Chikorea! Dominicani! Dominicani! In Chikorea! 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 Grazie a tutti